La costante incapacità di trattenere i campioni allevati in seno sta cominciando a creare delle crepe nell'animo dell'Arsenal, tanto che il tecnico alzaziano Arsène Wenger sembrerebbe stufo dell'andazzo non avendo fretta di rinnovare il contratto con i Gunners. Ho ancora due anni di contratto, la cosa più importante per me è il Southampton al momento e mi sembra di aver dimostrato attaccamento al club in passato. Ora non ho voglia di fare progetti per il futuro, voglio fare bene in questa stagione, tutto qui. Il tecnico è stato costretto a veder partire verso il Manchester United il suo pupillo Robin Van Persie, che ha rifiutato di allungare il contratto con i londinesi. Lui invece non si vede lontano dall'Emirat Stadium, almeno non a breve, ma rilancia la sua professionalità. Sono un uomo dell'Arsenal, l'ho sempre detto. Devo capire se faccio bene o meno. Se non vinco, devo fare altri programmi. Sono stato qui all'Arsenal abbastanza a lungo per avere fiducia nelle persone con cui ho lavorato e lavoro, ma prima vengono i miei risultati. Non ho ancora preso delle decisioni, due anni sono tanti nel mio lavoro. Voglio solo fare il bene di questo club per quanto posso, accettando tutto quello che ne viene. Se l'Arsenal continuerà a far bene come in questo inizio stagione, allora di sicuro le voci si placcheranno. Dalla sua Wenger può vantare una porta inviolata dopo due vittorie e un pareggio. E come ha detto il tecnico, sabato arriva il Southampton fanalino di coda.